bene allora dopo aver impostato il timbro di zona con lo strumento zona adesso lo andiamo a inserire nei vari ambienti ci concentriamo adesso nel soggiorno che è questo ambiente nella parte bassa allora le impostazioni del timbro le abbiamo già stabilite e create ricordiamoci che prima di inserire il timbro dobbiamo essere sicuri che non sia impostata la notazione che la categoria di zona sia giusta e che ci sia il nome che vogliamo inserire in questo caso qui scriveremo soggiorno l'altra cosa importante ci dobbiamo concentrare sul metodo di costruzione esistono quattro metodi di costruzione il metodo di costruzione per individuare la zona quindi la l'unità spaziale che deve essere la nostra zona allora il primo pulsante ci permette di definire la zona con il metodo polinina cioè cliccando su una serie di lati il secondo come per il resto anche per i solai ci permette di realizzare un rettangolo quindi con gli spigoli opposti il terzo pulsante ci permette di individuare in automatico una zona chiusa attraverso il lato interno il quarto sempre una zona chiusa però invece che attraverso il lato interno attraverso la linea di riferimento che ogni elemento ha allora nel nostro caso qui in questo soggiorno possiamo tranquillamente utilizzare il terzo pulsante perché ci troviamo di fronte a un ambiente che è chiuso tutti e quattro i lati allora semplicemente la zona giorno è già selezionata il metodo di costruzione questo dobbiamo l'annotazione non è attiva dobbiamo inserire qui il nome allora qui troviamo anche una lista di nomi che possiamo personalizzare quindi c'è anche personale ma in questo caso c'è anche soggiorno per cui possiamo sceglierlo così allora facciamo un primo clic nella zona che vedete è stata individuata correttamente quando il cursore appare a forma di martello facciamo un altro clic e viene inserito il timbro nel punto dove centrale il timbro viene inserito nel punto che abbiamo cliccato con il metodo di allineamento centrale ecco vedete e qui ci sono tutte le informazioni che avevamo chiesto nel senso che questo ambiente è un soggiorno è giallo per cui fa parte della zona giorno ha un'area di 16,72 metri quadri un'area finestrata di 5,50 benissimo ci concentriamo adesso sulla l'ambiente sopra che è la sala da pranzo allora in questo caso non possiamo utilizzare il terzo elemento perché sia la cucina che il vano scala con il corridoio non sono chiusi con una porta infatti se io vado a fare un clic e lo vado a inserire vedete il giallo ha compreso pure la parte della cucina e ha compreso anche la parte della scala annulliamo e in questo caso dovremmo utilizzare il metodo in questo caso possiamo usare anche il metodo rettangolare quindi scriviamo qui sala da pranzo ok l'abbiamo fatto prendiamo il metodo rettangolare facciamo un clic in questo punto un clic nel punto opposto e mettiamo il timbro al centro e benissimo anche in questo caso ci sono tutte le informazioni richieste adesso andiamo a fare la stessa operazione per la cucina anche in questo caso il metodo rettangolare a noi va più che bene facciamo individuiamo l'area e andiamo a mettere il timbro allora il timbro in ogni caso può essere spostato ecco in questo caso c'eravamo scordati di scrivere cucina quindi vediamo un attimo come ovviare al problema andiamo a selezionare ricordo sempre che quando ci sono degli elementi sovrapposti dobbiamo essere sicuri di aver cliccato su quello che a noi interessa in questo caso c'è il solaio la zona uno sopra l'altro per cui a un primo clic appare il solaio ma con il tasto tab io passo da un ambiente e da un elemento sovrapposto all'altro quando individuo quello che a me interessa nel nostro caso zona clicco su invio vedete a questo punto dove c'è scritto sala da pranzo posso scrivere cucina e posso anche spostare il timbro nel senso che cliccando sul puntino rosso al centro del nostro timbro lo posso andare a spostare questo caso lo sposto di poco per permettere di non inserirlo sovrapposto al muro adesso andiamo a mettere il timbro qui per la lavanderia non riprendo lo strumento timbro di zona qui scriviamo lavanderia magari mettiamo l'abbreviato per evitare che il timbro sia troppo grande e la zona giorno individuata in questo caso questo essendo un ambiente cruso possiamo ritornare al alla terza opzione facciamo un click e un altro click per inserire il nostro timbro anche in questo caso se serve lo possiamo spostare un pochino per non farlo cadere sopra il muro benissimo in questo modo abbiamo inserito i timbri per il soggiorno la sala da pranzo la lavanderia la cucina con tutti i dati che noi serviranno per l'analisi adesso l'ultima cosa che possiamo fare individuare la zona corridoio ritorniamo anche questa volta al timbro di zona qui scriviamo disimpegno magari disimpegno e quindi dobbiamo però essendo una forma un pochino articolata dobbiamo scegliere per forza il metodo poligonale per cui facciamo un primo click qui un secondo click alla fine della scala e andiamo a individuare la zona che a noi interessa la chiudiamo appare il martello e mettiamo il nostro timbro anche in questo caso andiamo a selezionare e spostare in un punto dove sia più leggibile in questo caso qui e abbiamo in questo modo completato il piano terra che è tutto zona giorno adesso andiamo al piano primo in modo analogo eccolo qua scegliamo lo strumento zona in questo caso gli diciamo che qui stiamo parlando di una zona notte possiamo scrivere la destinazione d'uso letto qui ne abbiamo ben tre per cui possiamo pure procedere in modo molto rapido tutte belle chiuse con delle linee per cui scegliamo la terza opzione primo click impostazione del timbro altro click impostazione del timbro qui c'è una sovrapposizione di scale ma le scale stanno sotto per cui va bene in questo modo e ugualmente sulla terza camera da letto rimane da individuare questa zona che è il bagno per cui andiamo qui sulle etichette scegliamo vc il resto va tutto bene facciamo un click è un altro click come abbiamo fatto sotto se ci serve di poter spostare l'etichetta scegliamo il punto centrale e facciamo questa operazione per completare la nostra opera dobbiamo individuare il corridoio anche in questo caso strumento zona ci dobbiamo affidare al primo metodo che è il metodo polilinea quindi un click definiamo bene tutta l'area passiamo intorno alla scala chiudiamo il progetto e mettiamo il nostro timbro in questo caso c'eravamo dimenticati di scrivere disimpegno quindi come abbiamo fatto prima selezioniamo il timbro di zona intanto lo spostiamo magari qui e sopra qui scriviamo disimp come abbiamo scritto sotto eccolo qua è chiaro che in questo caso non c'è area finestrata infatti correttamente l'area finestrata è zero proprio perché non ci sono finestre lo tiro un pochino più su in questo modo abbiamo completato l'inserimento delle zone quindi abbiamo un piano terra con tutte zone giorno e un piano primo con tutte zone notte tutti questi dati che abbiamo inserito ci serviranno per procedere all'analisi della nostra abitazione